Il prefetto di Salerno Francesco Russo ha disposto la sospensione del consiglio comunale di Baronissi ed ha nominato commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del comune in attesa del decreto di scioglimento del consiglio da parte del presidente della Repubblica il vice prefetto Rosa della Monica. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Gianfranco Valiante è stata votata lunedì al culmine di una crisi interna alla maggioranza cominciata circa un anno fa. Grazie